Ciao a tutti ragazzi, un salutone dal vostro Barbarozzo e buon anno! E beh ragazzi, se siete a vedere il video per festeggiare il Capodanno, fatevi una vita! No, non è vero, sono contento di avervi qui e insomma, che dirvi ragazzi, buon 2021 e iniziamo subito con un bel po' di ignoranza. Qua in alto, non so, dovreste vedere anche un qualcosina che vi indica la cartella di quello di cui parleremo e parleremo di ignoranza. Quindi vi parlerò dei miei shotgun preferiti e che vorrei, alcuni ci sono già, ma che vorrei nel Softair. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo. Intro, partiamo subito l'anno con una bella casinata di botti nell'intro e di heavy metal e poi ci vediamo qui e cominciamo a parlare di shotgun adorati dal Barbarozzo. Ed eccoci qui ragazzi, partiamo subito con una dose di ignoranza veramente, ma veramente massiccia. Questo magari i più giovani di voi non se lo ricorderanno, ma io me lo ricordo bene, perché è assolutamente innovativo, siamo negli anni 90 e questo qua sotto, anzi, sì no, giusto anni 90, questo qua sotto è una chicca che io me lo ricordo nel primo Fallout, non il primo Fallout quello in 3D dove è ambientato a Washington, ma il primo Fallout proprio quello che era in 2D, recuperatevi un gioco fenomenale, migliore di tutti quelli che sono usciti dopo, davvero, ma non c'entra con questo, perché stiamo parlando del punk or Jack Hammer, qualcosa ve lo ingrandisco un po' di più. L'immagine è un po' piccola, proprio perché anche le fonti sono un po' vecchiotte, ma ragazzi quanto è bello, quanto è ignoranza, quanto è cyberpunk anni 80 e anni 90, perché effettivamente questo starebbe benissimo in un Robocop e addirittura questo, ragazzi, in atto di forza era una delle armi utilizzate dai cattivi e è bello, è ignorante e lo vorrei nel Softail, perché guardate che bello, il caricatore qua così, quanti colpi ci potrebbero stare dentro, potrebbe venire fuori un qualcosa veramente ai livelli dell'A12, dell'UAS, verrebbe fuori qualcosa di fantastico e sarebbe stupendo. Non penso che sarebbe ergonomico, questo sicuramente no, ma sarebbe veramente figo e ignorante. E ragazzi, se c'è qualcuno che vuole far contento il barbaro, qualche colletto bianco nelle compagnie di Softail, fate una versione di Softail perché è bellissimo, ha troppe potenzialità, sarebbe veramente fantastico e ignorante. E questa è la prima delle armi che vorrei tanto vedere fatta da Softail, ragazzi. Fatemi sapere anche voi nei commenti, mi raccomando, se lo volete, se vi piace, e magari iscrivetemi anche quali sono gli shotgun che voi desiderereste più di qualunque altro. Comunque, Pancor Jack Hammer è il primo di cui vi parlo. Adesso andiamo avanti col secondo. Ah, il Saiga. Questo non ha neanche bisogno di spiegazioni. Una K in versione shotgun, praticamente una K sotto steroidi. E questo sarebbe veramente facilissimo da fare, ragazzi, perché è praticamente una K con un caricatore più grande e una canna più spessa. In realtà non cambierebbe assolutamente nulla da una K normale, soltanto il caricatore che sarebbe più esteso e un pochino la canna esterna. Si potrebbe fare tranquillamente, senza nessun problema. Però avrebbe i caricatori più estesi che permettebbero di portare più colpi e sarebbe più figo. Perché no con la canna estesa? Perché non farlo anche con un bel tre canne? Verrebbe veramente, veramente interessante, cattivo, con tutti i vantaggi della K perché avreste un bello shotgun con tutte le possibilità di modifica, con tutte le possibilità di componentistica, di accessoristica, rail e tutto quanto già presenti sulla K. E ragazzi, veramente, veramente figo. Spero veramente che ci sia da qualche parte, forse c'era da qualche parte già la versione soft air, però sicuramente è fuori dalla mia portata economica. E non ci pensiamo. Iniziamo l'anno con positività, quindi magari prima della fine dell'anno potrebbe succedere qualcosa e potrei potermelo permettere, se esiste. Sono troppo piccolo, come al solito, per andare a fare ricerche su internet. Andiamo avanti, un altro shotgun fantastico, che cosa avrà selezionato il Barbaro per la terza posizione. Vediamolo subito. E ragazzi, questo qua, questo qua, c'è, della Faban, c'è da soft air, mi piace veramente averlo. Stiamo parlando dell'STF-12. E ragazzi, l'estetica moderna mi fa impazzire. Ho anche avuto modo di provarlo, Will ce l'ha. Prima o poi, ragazzi, questo è nella mia lista di shotgun da prendere. Anche perché adesso, in realtà, gli shotgun che io sono un po' tutti decommissionati, un po' fuori... Non sono proprio in buone condizioni, quindi sono fuori utilizzo. E magari, questo sarà uno di quelli che prenderò quando avrò un pochino di soldini da spendere. E voi che ve ne pare? Io sinceramente lo adoro nell'estetica. Lo adoro per il fatto che è moderno, un sacco, direi, su cui si possono attaccare un sacco di cose e accessori. Soprattutto la torcia sullo shotgun è favolosa. E' molto, molto interessante, ragazzi. Fatevi sapere cosa ne pensate. Io adesso andrei avanti alla quarta opzione, al quarto desiderio polibito del Barbarozzo. Un altro ignoranza pura. Il Kel-Tec KS7. Questo qui, praticamente, quando giocavo a Cyberpunk, il gioco di ruolo cartaceo, perché io ho fatto quello. Sono fiero di averci giocato prima che diventasse di moda. E questo, ragazzi, era uno dei classici fucili che erano in mano ai cattivoni delle corporation. Perché, guardate l'estetica, ragazzi. E' puramente Cyberpunk, puramente sci-fi. E quanto sarebbe bello averlo da Softair, con una linea così. Sarebbe bellissimo. Sarebbe super, super figo. Sarebbe veramente, veramente fantastico. Non ci sono altre cose da dire. Sarebbe assolutamente originale. E, secondo me, non sarebbe neanche male a livello di compattezza ed estetica. Magari si potrebbe togliere tutto quel maiglione sopra, se si volesse farlo un po' più fruibile. Ma, diciamocelo, anche quello è parte del suo essere. E' figo. Insomma, questo è veramente un fucile che mi piacebbe tanto, tanto, come tutti gli altri. Vedere fatto da Softair. Questo qui, io ho la fortuna che questo ce l'ho, la versione senza calcio. Ho la sfortuna che era quella della Double Eagle. E adesso è praticamente morente. Le molle non tienono più un calcio. Dovrei cambiare o fare un po' sistemare tutto quanto. Però, è bello, ragazzi. Bello, pratico, comodo e figo. Questo è uno shotgun che adoro. Mi piace davvero tanto. E in questo sono molto patriotico, ragazzi. Perché sono dell'idea che gli shotgun devono essere benelli, devono essere franchi. Perché sono veramente fighi. Gli sappiamo fare davvero, davvero, da Dio. E poi, vabbè, ci sono anche le doppiette della Beretta. Che quelle, ognuna è un capolavoro. Ma, procediamo. Perché non vi voglio far perdere troppo tempo. Se state guardando questo video, appena appena è scattato l'anno nuovo, non vi posso mica far perdere un'ora subito il primo anno, no? Col Barbarozzo. E ragazzi, avevo detto del Franchi. Eccolo qua. Lo Spass 12. Quanto, quanto è figo. Jurassic Park, utilizzato contro i Veloci Raptor. Utilizzato, Dio. Veniva scannato prima di poterlo utilizzare. Però, però, quanto è figo, ragazzi. Quanto è bellissimo. E poi, c'ho dei ricordi bellissimi su Half-Life. Il primo Half-Life in cui questo era il fucile a pompa che si trovava, se non mi ricordo male. E non penso proprio di ricordarmi male. Ho sempre adorato il suo calcio col gancio fatto in quella maniera. Ancora di più l'ho sempre adorato col calcio ripiegato sopra, in maniera tale che avesse quell'estetica bella particolare. E, che dire, bello, bello, bello. Questo è un altro fucile che, se lo trovo fatto bene, esiste la Softail. Ma se lo trovo fatto bene, insomma, con tutti i crismi del caso, è uno di quelli che prima o poi mi piacebbe avere in lista. Ne mancano ancora tre da vedere. Quindi, vediamo questo, ragazzi. Ce l'ho della KTV. Il classico Itaca. E me ne sono innamorato, venendo utilizzato da Michael Biehn. Stiamo ancora parlando di anni 80 e 90. Utilizzato prima in Terminator e poi in Allianz Scontro Finale. Che poi, in realtà, non è mai stato Scontro Finale perché dopo il secondo film ne hanno fatti... una dozzigliata perché ci sono anche i crossover, Alien Contro Predatore e un sacco di altri. Ma, comunque, questo fucile a pompa sa davvero la sua e è veramente in grado di dare tante soddisfazioni, di avere una bella linea ignorante e nel close quarter vi sentirete veramente dei king con questi. Almeno, io mi sono sempre sentito un king con il mio. Io avevo anche la versione canne e mozze, quindi quella col calcio proprio... neanche col calcio che vedete qui, ma con quello in legno tagliato. Era veramente una bella ignorantata. Oh, qui, eccolo qua. Lo Striker. Cioè, voi pensate quante potenzialità potrebbe avere in questo a Softair. Un bel rullo in cui mettete dentro triliardi di pallini. Una compattezza estrema. Cioè, immaginativamente aprite il cilindro, ci buttate dentro tutti i BB che volete. Lo mettete magari anche in una bella modalità arafica. Ce l'avete compatto, diventa una secondaria mortale da portarsi dietro. Un solo caricatore cilindrico di quello può portare dei BB che vi fanno fare un game intero. Questo, ragazzi, è veramente un qualcosa che per me sta aspettando soltanto di venire fatta per i CQB. Questa è una di quelle armi che verrebbero bannate in qualunque campo. Io me lo immagino già. Cioè, compatto così, fuoco praticamente automatico-semi-automatico, caricatore preso che infinito, tre pallini sparati per volta. Ragazzi, questa è un qualcosa che da Softair deve venire fatto per me e deve venire fatto così che io lo possa comprare. Ditemi cosa che pensate, come di tutti gli altri. E qui andiamo a finire, ragazzi. Non vi faccio perdere troppo altro tempo, così magari vi ne tornate a festeggiare. Anche se state guardando questo video, probabilmente siete già belli imbriachi, perché può mettervi a vedere il barbaro alla mezzanotte del nuovo anno. Insomma, allora, vediamolo qua. Questo qui, l'UTS, questo lo ha messo perché mi piace il suo essere così beceramente spesso. È uno shotgun che mi piace davvero molto. Non vi so neanche dire il perché o altro, ma questo è proprio grosso. Cioè, guardate la prospettiva, proprio la proporzione fra il calcio e quanto poi sale ancora sopra alla zona grilletto in pugnatura. È spessissimo, è fighissimo ed è ignorante. Una delle parole che ho già detto di più in questo primo momento del 2021. E niente, ragazzi, fatemi sapere anche voi un bel video che ho dovuto fare uscire adesso. Non lo farò uscire un altro video sabato perché è il giorno del mio compleanno, quindi lo passerò con moglie e famiglia. E niente, ragazzi. Quindi ve lo faccio uscire subito in anticipo, così vi ho anche fatto gli auguri di buon anno. E fatemi sapere, ragazzi, se vi è piaciuto, un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto. E veramente, scrivetemi sotto se l'avete visto allo scoccar della mezzanotte o comunque giù dì, perché scherzo, siete veramente dei king e siete veramente dei grandi. E mi fa molto piacere se vi ho fatto un po' di compagnia proprio nei primi minuti dell'anno nuovo. Quindi, ragazzi, al vostro Barbarozzo un buonissimo anno e divertitevi sempre e statemi bene. Un ciao ciao, ragazzi.